Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Oggi andiamo a vedere la corazzata di livello 9 francese Jean-Bart Prima di entrare nel vivo della partita, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Se volete provare il gioco completamente gratuito, link in descrizione Se volete acquistare giochi a prezzi super scontati, Instant Gaming è il sito che fa per voi, sempre link in descrizione Allora, come detto Jean-Bart, questa corazzata francese è davvero fantastica Possiamo recuperare 5 volte la vita Abbiamo 5 tasti per dimezzare il tempo di ricarica dei cannoni principali posti alla prua Sulla prua della nave, 8 cannoni in totale su 2 torrette Abbiamo poi il classico boost per quanto riguarda la velocità Il comandante, apro parentesi, è in fase di studio In questo periodo lo sto studiando nuovamente per cercare di cambiare qualcosina Non sono molto convinto, quindi magari vi terrò aggiornati E qui subito una cosa È una nave che si acquista con il carbone E qualcuno potrebbe chiedere nei commenti Davy, quale nave mi consigli tra la Jean-Bart e lo Smolensk? Ecco, questa è una bellissima domanda E la risposta è abbastanza complicata, se devo essere sincero Perché la Jean-Bart, per quanto mi riguarda, è una nave davvero molto valida A me piace tantissimo Il tasto magico, come lo chiamo solitamente Ypsilon, che ci consente di rimezzare il tempo di ricarica dei cannoni È davvero una cosa fantastica Quindi, veramente, è una cosa fantastica e unica Considerate questa cosa qui Abbiamo 69.000 punti vita Sono pochi rispetto alle altre navi di livello 9 Però, ripeto, è compensato da tutto il resto che abbiamo Quindi va più che bene L'anti-aerea è davvero molto buona perché la nave al momento è incentrata sulle armi secondarie Che di conseguenza avranno anche, diciamo, daranno un bonus all'anti-aerea E ci troviamo bene perché c'è una porta-aerei in partita Dobbiamo affrontare nel nostro lato Siamo nella mappa 8 Modalità supremazia Un solo caccio torpediniere Fantastico E una porta-aerei Sto giocando insieme al mio compagno di clan Uela Con il suo Mogador Trovate già il gameplay sul mio canale Andate a guardarlo perché è davvero un gameplay che ha dell'incredibile Fondamentalmente con questa nave Dobbiamo dare fuoco alle navi nemiche Non è un gameplay difficilissimo Però attenzione perché anche qui Le HE vanno utilizzate quando servono le HE Quando servono le AP dobbiamo mettere le AP Musashi contro John Bart Chi vince? Ne ho parlato più volte Vi ho postato anche i gameplay nelle Ranked Battles Vi ho fatto vedere proprio Una John Bart la mia che è stata in grado di affondare due Musashi Nel giro di pochi secondi Semplicemente perché la Musashi È una nave molto lenta Mentre la John Bart è una nave molto rapida Quindi una volta che tu vai come dire A metterti nel lato della Musashi Spari nel punto debole con le AP ovviamente E fai 2, 3, 4, 5 cittadelle Dipende ovviamente Come colpite la nave avversaria La Musashi sicuramente è un'ottima nave Però ripeto Tra le due In base anche al divertimento Penso che la John Bart sia Una delle più divertenti navi dell'intero gioco Quindi veramente Io la consiglio La consiglio sempre Anche lo Smolesk È divertente Però ripeto Siamo veramente al limite della scelta È come scegliere tra mamma e papà Non si può fare Quindi Se le avete tutte e due È una cosa molto buona È gradita Anche per le vostre tasche Perché comunque Vi faranno guadagnare molti crediti Soprattutto con le bandiere speciali Non dimenticate comunque le bandiere da combattimento Qualcuna Mettetela sempre Siamo a 40.000 danni In 4 minuti Abbiamo fatto due incendi 17 hit Ho utilizzato una sola volta Il tasto rapido Si può utilizzare soprattutto Se dovete fare un cambio Di proiettile Qui sinceramente Vorrei andare a mettere la skill Che mi consente Di cambiare i proiettili Alla metà del tempo Ecco perché ho detto Che il comandante È in fase di Di test Comunque di Valutazione Continua Andiamo a sparare contro L'incrociatore Di livello 7 Giapponese Vediamo se riusciamo a beccarlo In qualche modo Abbiamo sparato le AP Ecco appunto Due cittadelle Primo sangue Colpo devastante Il tutto con Un singolo colpo Io non so perché L'incrociatore Dietro di me Mi dica di fermarmi Non c'è nessun motivo Perché io debba fermare La mia nave Anzi dobbiamo Avanzare Perché loro Hanno un incrociatore Dentro il fumo Quindi Cosa buona da fare È sicuramente Distruggere L'incrociatore Che abbiamo davanti a noi Con 3000 punti Una volta elevato Quel Kutuzov Il Kutuzov È una nave Molto buona Però il problema È che Un'altra kill Il problema è che Non può recuperare vita Quindi quello che perde Lo perde Punto e basta Ed è una cosa Molto positiva Soprattutto se vedi Una nave Che sta pushando Per noi È una cosa Molto negativa Per lui Perché Ripeto Quando perde vita Non può fare nulla Un altro piccolo incendio Sull'Aizumo Qui le secondarie Stanno facendo un ottimo lavoro Le AP Non servivano a nulla In queste circostanze Andiamo a fare 3900 Va bene Un siluro Va bene 8800 Possiamo gestirlo Noi continuiamo Ad andare sull'Aizumo Era Una cosa consigliata A mettere le HE Sinceramente Perché Lui ancora che scrive Stop a me Vabbè Mettiamo le AP 1190 Perforazione eccessiva E mancata perforazione E ovviamente I rimbalzi Non possono mai mancare Cosa sta provando a fare L'Aizumo Sta provando a Rammarmi Perché è l'unica Carta che può giocare Qui Sinceramente Anche in partita Quando stavo giocando Ero molto preoccupato Di questa sua giocata Perché come vedete Si va a concludere Per un soffio Al di là Della mia nave E adesso Le mie armi secondarie Possono sparare Tutte quante insieme E sono davvero tante Contro l'Aizumo Un altro incendio Se avessi avuto Il boost Lo avrei evitato Davvero con Estrema facilità Non è stato così Ciò nonostante Mi ritengo soddisfatto Perché la nave È stata distrutta E noi siamo ancora Vivi Questa è la cosa Importante Andiamo ancora Con le AP Alle volte Veramente mi fisso Con le AP O con le HE Dipende dalla partita Dipende molto Dalla partita Arrivano I bombardieri Siamo a 123.000 danni Signori Non vorrei dire Ma in 8 minuti Abbiamo già fatto Molti danni Vediamo se l'antierea In qualche modo Riesce a gestire I bombardieri Che arrivano Bombardieri Di livello 8 Attenzione Questi vengono per me Sicuramente 12.000 Aiuto Ok 3.000 3.000 È andata Veramente Alla grande Ancora Armi secondarie Che sparano Contro la Jean Bart Ma qui Ovviamente Servono Le armi principali Per mettere La parola Fine Alla Jean Bart Lui È un pochino Inclinato Sta facendo Un gioco Un po' Fastidioso Infatti Qua vado a mettere Le hre Perché dico Non è più cosa Dobbiamo assolutamente Distruggere Questa Jean Bart È una partita Davvero molto Interessante Perché ripeto È la classica partita Dove puoi fare Tanti danni Il matchmaking Ideale Le navi ideali Che incontri Il colpo devastante Le corazzali Sulla destra Gli alleati Che tengono Quindi veramente È un matchmaking Molto Molto Interessante Un incendio In 9000 danni Metterei la firma Per fare sempre Questo colpo Più l'incendio Ovviamente Continuiamo ad avanzare La Jean Bart Nemica Ovviamente Ormai È ai minimi termini Noi andiamo a subire L'ira Della Portaerei Che arriva Con tutto quello Che ha Infatti lui qui Mi va a lanciare I siduri Però decido Di mangiarli Non provo le virate Perché preferisco Mangiare i siduri Anziché Mangiarmi Un colpo Della Jean Bart Rivedendo Adesso In questo istante Il replay Effettivamente Sono un pochino Più aperto Di quanto Avrei dovuto essere Vediamo Lui va a sparare Le api E mi penetra Mi fa davvero Malissimo Ecco Questo colpo Secondo me È stato anche Un po' fortunato Perché la nave Era abbastanza Inclinata Forse non tantissimo Però ripeto Un po' di fortuna L'ha avuta E mi ha levato Circa 20.000 punti 20.000 punti Sinceramente Si fanno sentire Noi stiamo Con la nostra velocità Andando Il più velocemente Possibile Ad aiutare Il settore Bravo di Charlie Andiamo a fare Un 7.000 Contro il cacciatore Periniere Che lo sta ancora Sentendo questo colpo Tasto magico Attivato Andiamo a sparare Nuovamente Vediamo se ci portiamo A casa Un'altra kill Che sarebbe una cosa Davvero molto buona Eccola qui Signori Siamo a 3.000 E 175.000 E io penso Di avervi mostrato Le caratteristiche Della nave Ovviamente Ci deve stare Ci devono essere Le condizioni ideali Per poter avanzare Il fatto che ci sia Un solo cacciatore Periniere È stato davvero Un colpo di fortuna Perché mi dava Mi ha dato Libero Libero sfogo Diciamo Alla mia velocità Siluri E il cacciatore Periniere Evitati Molto bene L'ideale sarebbe Trovare la porta aerei Perché ovviamente Potrei aumentare Il mio danno 175 Arrivare a 200.000 Sarebbe davvero Una cosa Molto Buona 13 aerei Distrutti Abbiamo fatto Un po' di tutto In questa partita Il colpo devastante Le cittadelle Le armi secondarie Gli incendi Veramente Una partita piena A 360 gradi Però non è ancora finita Perché dobbiamo affrontare La porta aerei Ce l'ha con me ragazzi Ce l'ha con me Sa che può In qualche modo Darmi fastidio Anche perché La vita è calata molto La porta aerei Nostra Va contro La corazzata Va bene Siamo soli Vediamo se riusciamo A gestire i bombardieri Non mi fare male Invece 6.000 Andiamo a beccarci Un bel 6.000 E qui sinceramente E dicevo Qui sinceramente L'incendio Potevo Levarlo subito Perché lo sto tenendo Perché un incendio Si tiene Siamo d'accordo Ma non quando hai Poca vita Poi qua Lo spengo A 12 secondi Boh Non lo so Perché Non me lo chiedete E Ho fatto così Ma in realtà Non dovevo O lo spengo subito Oppure lo tengo Fino in fondo Non ha senso Spegnerlo a 12 secondi Perché poi Lui potrebbe In qualche modo Darmi fuoco di nuovo Grosso calibro Stiamo facendo Stiamo facendo Il devasto Più totale Abbiamo tankato Per un milione Qui la nave Ragazzi Confederato Ok Diventa Veramente Inarrestabile Cerchiamo di portare A casa Un'altra kill Sarebbe una cosa Molto gradita Cittadella Cittadella e kill Vedete l'incendio Che arriva proprio All'ultimo 13.000 14.000 Siamo veramente Messi Molto male Scusate ma Se ne va la voce E vediamo Se riusciamo A beccare la portare Siamo a 194.000 62 62 Danni 63 63 878 Danni Alle squadriglie Nemiche Quindi davvero Un'ottima prestazione Se ci fate caso 4 riconoscimenti Sono tanti Potremmo fare Il kraken Signori Potremmo fare Il kraken Devo recuperare vita Lui ovviamente Adesso prova Fino in fondo A beccarmi Un po' di copertura Antiaerea Sarebbe stata Davvero l'ideale Però Il nostro alleato Decide di andare Contro la porta aerei Vabbè Insomma Abbiamo giocato Praticamente Senza copertura Antiaerea Per tutta la partita Un altro incendio Andiamo a spottare La porta aerei Vediamo quello Che riusciamo a fare Ragazzi Risultati Posto scontro Per capire Quello che abbiamo Portato a casa Ragazzi Video Terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi Ci vediamo Alla prossima Ciao ciao